L'imprenditrice peserese Claudia Parmegiani, presidente di Terziario Donna Confcommercio Marche Nord, è stata eletta nel Consiglio Nazionale dell'Associazione. La nomina è stata ratificata a Roma nel corso del Forum Nazionale di Terziario Donna dal titolo Donne Imprese Futuro, Spazi e Tempi, al quale la Parmegiani ha partecipato con una nutrita ed entusiasta delegazione di Terziario Donna Provinciale. Per la titolare dell'ultra trentennale attività peserese Vesti il Lavoro, la nomina rappresenta un onore e un'assunzione di responsabilità. Appena uscita dall'Assemblea Nazionale del Terziario Donna qui a Roma, a Piazza Belli, è uscita con questa grande felicità, questa notizia da annunciare, la provincia di Pesaro è nel Consiglio Nazionale delle Imprenditrici di tutta Italia, quindi sono stata scelta come consigliera del Consiglio Nazionale, ringrazio tutte quante mi hanno votato e prometto il mio impegno, la mia trasparenza e l'ascolto di tutte. Grazie. Durante il Forum è emerso come la crescita economica italiana passi per l'incremento dell'occupazione e l'imprenditoria femminile e per l'individuazione di strumenti di welfare e di gestione delle città e dei territori che rendano spazi e tempi più rispondenti alle esigenze delle persone con una equilibrata armonizzazione fra ambito professionale e privato superando stereotipi e differenze di genere.